C'è un nuovo Conte che si aggira fra noi? Non lo so, forse è un nuovo Conte da quando ha perso la cattedra alla Sapienza e quindi deve pensare cosa fare nel suo futuro. Cioè, sinceramente, io non vedo un nuovo Conte. Cioè, ora, parliamo... Chi non ha un partito... È tornata la cattivissima Meli. Ma no, ma chi non ha un partito come Conte, figuriamoci, lo fu per Prodi complicato, lo fu per Carlo Azzeglio Ciampi. Cioè, stiamo parlando di persone ben più autorevoli e con molti più agganci. Fu complicato per loro gestire delle maggioranze, figuriamoci per Conte. Per Conte non gli basterebbe la sponda di Mattarella, Conte ha la sponda di Di Maio, è ovvio. Dopodiché, per il dopo, io non capisco dove si pone, perché se Salvini, come è probabile, prenderà... Io non credo che prenderà quelle cifre stratosferiche che gli danno i sondaggi, però certamente prenderà più che alle politiche. Se succederà così, Conte dove si posiziona? Cioè, ha fatto, ha scontentato Salvini? A fare che cosa? A fare un governo tecnico dove ci sono una serie di suicidi che si carica in una manovra lacrime e sangue? Ora vediamo.